E' una situazione che è emersa a seguito di operazioni anche molto coraggiose di ristrutturazione e, devo dire, anche di nuovi investimenti. ARPA ha investito nel rinnovo della flotta negli ultimi anni in modo consistente e direttamente con mezzi propri. E' una situazione che un po' è risultato anche di una ristrutturazione dell'operatività dell'azienda, una ristrutturazione che, credo di poter dire, oggi consente all'azienda di vantare i costi forse più allineati al costo standard di cui attendiamo l'introduzione e che è lo strumento con cui realizzare la razionalizzazione della spesa pubblica in generale e ovviamente anche nei trasporti. E' una situazione, quella dei bilanci ARPA, che ha davvero una conseguenza di operazioni che sono la premessa per un rilancio dell'azienda e per un rilancio del settore con la realizzazione dell'azienda unica. Mi aspetterei ragionevolmente che nei prossimi esercizi questi risultati non abbiano a ripetersi, anzi che possa reiniziare quel percorso virtuoso di creazione di valore che per un'azienda pubblica significa poi creare quel valore con cui alimentare gli investimenti che sono assolutamente necessari. Direi che abbiamo anche in questo caso ragionevoli attese sulla realizzabilità concreta, anzitutto del piano di creazione dell'azienda unica che entro fine anno subirà una svolta decisiva e radicale. E poi, realizzata l'azienda unica, proseguire con la razionalizzazione della rete dei trasporti, con la rivoluzione di alcune tipologie di servizio. Il nostro obiettivo è quello di produrre servizi migliori qualitativamente, più estesi quantitativamente, assorbendo meno risorse.